Allora sono qua in 3dexperience.virtualtester.com Una volta era solidworks.virtualtester.com Dunque oggi ho fatto installare ai ragazzi il TangeX cioè questo software qua e ho fatto poi creare ai ragazzi il proprio login per entrare e per poi fare le certificazioni noi facciamo solo quelle di Solidworks però con il loro login possono fare quelle su Cattia, Simulia e Delmia noi qua a Linti Salonato facciamo per adesso solo quelle di Solidworks abbiamo solo le licenze di Solidworks e faremo fare ai ragazzi le certificazioni alcune certificazioni, non tutte ok perché sono tantissime diciamo che facciamo fare il CSV A in quarta e il CSV P in quinta e poi io vorrei fare qualcosa d'altro, vediamo comunque alla fine ho fatto cliccare qui ho fatto scaricare il TangeX sul computer della scuola e poi ho fatto creare la proprio sempre dal TangeX che è a nuovo e ho fatto creare la propria per ognuno dei ragazzi ho fatto creare la propria il proprio login ok? a questo punto una volta che si è loggato si arriva qui ok? faccio usare l'italiano come lingua di applicazione continua ok? lui entra ho già se devo mettere un un nome nuovo metto qua ok? se invece ho già un virtual tester qua vado qui adesso vediamo se mi ricordo la mia ok? vediamo se mi ricordo ok? vediamo se mi ricordo la mia perché non me la ricordo vediamo se era questo speriamo che sia questa ok? sì ok a questo punto sulla mia posso ma come su ognuna posso andare su queste ok? di certificazione c'è già c'è anche il 3D Experience noi andiamo sulla Solidworks clicco qua su Solidworks entro qua tutti questi qua io come si dice posso farlo ok? posso farlo ok? ok? poi andiamo a vedere che ci sono questi due gratuiti ok? dunque io suggerisco di cliccare qua ok? andare poi a mettere SV Sample Exam ok? cliccare e fare andare avanti la certificazione adesso faccio cancella ok? dunque questo Sample CSWA che è gratuito per tutti ok? cliccare qua e cliccare qui e iniziare l'esame ok? e provare a vedere di provare questo 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 esempio ok? adesso non mi ricordo bene se è cambiato o no dovrebbero essere 45 minuti ma non mi ricordo bene non c'ho voglia di farlo andare comunque andando avanti adesso farò provare ai ragazzi questo qua per i ragazzi dell'ITS potete provarlo a casa visto che vi siete già logati in modo che poi è un'esercitazione in più ok? ci vediamo alla prossima e vederci